Con noi Paola Di Simone, direttore tecnico capo della Polizia Scientifica a Palermo. Questa mattina a Palazzo del Carmine viene presentato il suo libro Crimini al Microscopio, prefazione di Federica Sciarelli. Parliamo innanzitutto del libro. Allora, il libro nasce come un'idea di spiegare al pubblico, ormai così da tanto tempo affezionato alle serie televisive del genere crime, quali siano le differenze tra i contenuti di queste fiction, quali CSI, con quella che invece è la nostra realtà di tutti i giorni, per noi che operiamo nel settore della Polizia Scientifica e più in generale nel settore delle indagini tecniche a supporto di quelle un po' più classiche. Tenendo conto anche degli omicidi di cui parlano anche le trasmissioni televisive, si avvicinano molto alle fiction oggi. Ma le fiction hanno dei contenuti molto seri, veritieri e verosimili, però in certe situazioni hanno delle procedure, dei protocolli e soprattutto delle soluzioni molto facili che danno certezze che invece molto spesso si discostano da quella che è la realtà in questo lavoro. Parliamo adesso del suo lavoro, un duro lavoro per una donna. Ma il lavoro è molto interessante, è un lavoro entusiasmante che regala forti emozioni. Certamente è un lavoro duro, non per il fatto che sia donna, ma è un lavoro duro in generale per l'impegno che comporta. Nel libro ho raccontato anche un po' un aspetto personale della mia vita, il mio ruolo di madre, il mio ruolo di donna, perché è ovvio che nella vita di ciascuno di noi l'aspetto professionale è un aspetto che necessariamente va insieme a quello di una vita personale che è presente ampiamente in queste pagine del libro. Innanzitutto è un'iniziativa di prossimità che vuole coinvolgere i ragazzi sull'attività della Polizia Giudiziaria e in particolare sul contributo fondamentale che fornisce la Polizia Scientifica. Poi mi piace rimarcare che questa è un'iniziativa che ha anche uno scopo benefico, perché i proventi dei diritti d'autore saranno devoluti ai fondi di assistenza della Polizia di Stato in favore dei figli di poliziotti che sono affetti da gravi patologie fino ai 18 anni, quindi mi sembra un'iniziativa estremamente meritoria. Poi tendiamo a coinvolgere i ragazzi, quindi a far capire loro qual è la difficoltà dell'approccio scientifico alle investigazioni, perché oggi le investigazioni non possono assolutamente prescindere da quello che è un atteggiamento fondamentale della scienza, quindi dagli accertamenti biologici, dagli accertamenti genetici, ai sopralluoghi sulla scena del crimine, dagli accertamenti dattiloscopici. Oggi le indagini scientifiche hanno un aspetto fondamentale in tutte le investigazioni.